Introspezione, reinterpretazione del reale, onirico. Portare a casa il mondo di qualcun altro e poterlo condividere. Non dentro un ripostiglio. Mi piace anche che possa essere disponibile a maggior numero possibile di persone. Per cui l'ipotetica parete è quella di una strada. Io direi la Piavina. Una su tutte è un'opera di Rosso Fiorentino. 500 anni fa dipinge quest'opera straordinaria che è la Deposazione della Croce. Un'opera per colore, per costruzione, per espressività. Un'opera che amo da sempre. È la tua vita alla fine. Tutto direi che nasce proprio da questa specie di piccola reazione atomica. Credo che il motore della modernità sia sicuramente in qualche modo la tradizione. Io scollego un po' veramente la testa e entro in relazione con quello che è stato l'accumulo di una serie di riflessioni. Ecco, dove il pensiero diventa gesto per poi diventare forma rappresentata. Il nero è la superficie di un inconscio che si pone delle domande. Un'immagine che si staglia su una superficie scura poi incomincia a risplendere, incomincia a prendere vita. Non c'è un colore ma c'è una profondità che diventa colore.